Io sono convinto semplicemente che la guerra fuori dai nostri confini, cioè quella che a giorni, a settimane potrebbe sconfiggere l'ISIS, non fermerà la guerra che abbiamo qui. Quindi non penso che sia per forza un legame. La seconda cosa su cui potremmo esercitarci in un altro momento è il fatto che tu hai parlato di immigrati e noi abbiamo in mente gli immigrati, li associamo ai barconi a qualcosa di relativamente recente, però il fatto che siano immigrati di prima o seconda generazione è il vero punto. Perché? Perché il fatto che fosse l'attentatore 23enne, come in altri casi effettivamente inglese o francese, nel caso francese, io credo che sia un aggravante e che sia la dimostrazione che ci debba essere un ripensamento sulla compatibilità di determinate culture con la nostra. E non dico altro. No, quindi, voglio dire, come la risolvi? Cosa fai? Prendi il quartiere di Molenbeck e lo esporti, lo riporti a casa? Cioè, voglio dire, come la risolvi questa cosa? Se mi fai la domanda diretta, ti rispondo che la smetti, non tu, ma idealmente, la smetti di pensare che sia compatibile con l'Occidente ciò che compatibile non è. E sto parlando di Islam, la smetti di pensare che il problema sia solo costruire moschee e tollerare chi mette le donne su un piano inferiore e mille altre cose che alla fine, dopo una generazione o due generazioni, pazzi a parte, comunque continua a essere come l'olio con l'acqua. Cioè, non si fonde e crea delle tasche più o meno sganciate con l'Isis che possono generare una... Cioè, continuiamo a parlare di questo? Io ho solo due spigolature veloci. La prima è, c'è una frase di purgatore che semplicemente non voglio rifiutare, senza discuterne troppo perché ora magari ne manca il tempo, ma che sia nostra responsabilità. No, ma scusa, che litighiamo tra di noi su una cosa di questo genere è inaccettabile. No, no, non sto litigando, sto dicendo che tu hai detto una frase che, come dire, si dice ammesso e non concesso, io non l'ammetto e non la concedo, io non ammetto e non concedo, non do per niente per scontato, voglio dire, che il fatto che un ventitrenne o di prima, seconda generazione, faccia un attentato, diversamente dai suoi genitori, che appunto attentati non ne fanno pur essendo nati nello stesso contesto sociale all'estero e in Libia dove fosse, che sia nostra responsabilità, io non lo do per scontato, per niente. Ci può anche darci che non lo sia per niente una nostra responsabilità e che ci sia appunto un altro tipo di responsabilità, di tipo culturale, proveniente dall'estero e che non è per forza un qualche cosa a cui la nostra civiltà si deve adeguare, ma è solo un inciso. La seconda cosa vuol dire anche una piccola cosa sui bambini, non so neanche spiegarla bene, ma è una cosa che mi ha lasciato attonito oggi. Oggi hanno fatto vedere a un TG, che non sto a nominare, un servizio dove si vedevano, come nel servizio di prima, i bambini apprendisti jadisti, kamikaze, quello che sono, che sparavano, che appoggiavano le spade sopra le teste, eccetera, eccetera. Spesso erano le stesse immagini del servizio che abbiamo visto prima e che quindi mostravano, se vogliamo, una forma di traviamento di questi innocenti, di questi bambini. Ma le immagini erano, i volti dei bambini erano oscurati nel servizio che ho visto io questa sera. Cioè c'era il paradosso di noi che ci preoccupiamo dal nostro punto di vista di tutelare l'infanzia oscurando i volti di questi bambini che pur noi stiamo mostrando per come vengono rovinati per sempre da culture che li trasformano in assassini di un'intera cultura che è la nostra. Questo, il tema dei bambini oscurati che noi dobbiamo rispettare, come funziona? Noi abbiamo degli obblighi di... Ci sono degli obblighi, c'è un... Non di cronaca perché quando... No, 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 ci sono delle norme che noi dal punto di vista etico, deontologico rispettiamo che sono quelle che ci impongono... Cioè il bambino kamikaze tu lo devi oscurare i minorenni. Il minorenne kamikaze, quello che dice Facci, noi avremmo dovuto oscurarlo, il minorenne kamikaze. Sì, ma il minorenne kamikaze, il bambino vestito con la tuta del visis, cioè io lo oscuro perché non lo ritengo colpevole di quello che sta facendo, non so come dire. Cioè voglio dire, ma vogliamo pensare che quei bambini di otto anni abbiano coscienza di quello che stanno facendo in quel momento o che sia una rappresentazione, bambini traviati, bambini abusati vorrei dire, violentati da questo punto di vista... Quindi siccome loro non li hanno oscurati, il senso di visto io sì, secondo te ha ragione TG? Ho capito il paradosso intorno al quale tu stai, diciamo, costruendo il tuo ragionamento. Io volevo dire un'altra cosa. Volevo dire che secondo me non mi trovo d'accordo quando dici che quella è una cultura... Per me l'isis non è una cultura con la quale io mi vado a mescolare. Ma non posso pensare, non lo penso, io almeno non lo penso, che il mondo islamico sia quello. Per me è un altro. E anche Tony Capuozzo, che quel mondo conosce benissimo come me per esserci stato e andarci ancora, sa benissimo che esistono, come dire, esiste un islam col quale noi possiamo tranquillamente dialogare. L'islam non è il ragazzetto che è andato a farsi esplodere della magia dell'arena. Se centomila persone, centomila mi pare che fossero a Milano, se centomila... Non mi è sembrata una cosa non significativa, mi è sembrata una cosa interessante. A me piace l'idea, non mi piace l'idea del volemo se bene, l'accoglienza, perché so fare anche io delle distinzioni, ma che ci siano centomila persone in una città come Milano che dichiarano anche con quella marcia di prendere una distanza da questi signori che si fanno esplodere e che fanno parte di un mondo che non ci appartiene, io la ritengo una cosa significativa. Ecco, meglio che stare chiusi in casa, va bene? Non è una marcia contro il terrorismo. Io ci sono andato alla manifestazione, l'ho seguita per il mio quotidiano, sono stato lì tre ore, è stata di per sé, intersecamente, una manifestazione bellissima, anche più di centomila persone. Vario Pinta, un carnevale, una stramilano, tutta buffa, brilla, bellissima, meno politicizzata di quanto hanno scritto i giornali, un sacco di brava gente, pacifica, sembrava l'inaugurazione delle Olimpiadi, però siccome quello che conta è, perché le manifestazioni oggi sono così, è il messaggio che arriva all'esterno, cioè che va nei telegiornali, che va sui giornali, per persone che magari non hanno la passione analitica che hai tu, alla fine che cosa è arrivato? E' questo che io critico, è arrivato che hanno fatto una manifestazione sugli immigrati, per gli immigrati, quando per immigrati il famoso italiano medio cosa pensa? Ah, immigrati, barconi, problemi, le onghe, eccetera, qualche giorno dopo che a Milano c'era stato un problema con le forze dell'ordine, eccetera, eccetera. Quindi questa cosa, il macro messaggio sbagliato, volgare, insomma, a cannocchiale rovesciato, che è arrivato è stato, come dire, dal punto di vista della comunicazione, un disastro, per cui, cioè, è vero quello che tu dici. Sì, ma io non ho capito che la posizione faccio, mi hai detto che è una manifestazione bellissima, qual è il problema in questa manifestazione? Il problema è che quello che è stato non è quello che è arrivato, per cui di questi tempi bisogna stare attenti anche a organizzare una manifestazione come questa, perché in un periodo alterato come questo rischia di arrivare un messaggio sbagliato.